Presentata la quindicesima edizione di Benvenuta Vendemmia presso l'azienda Viti Vinicola Rivera da Andria. L'evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia si terrà domenica 15 settembre e coinvolgerà turisti appassionati di vino o semplici curiosi attraverso visite guidate presso le cantine aderenti all'iniziativa nelle quali si potrà assistere alle fasi della vendemmia. Dall'uva al vino mostrando tutte le fasi di questo delicato processo fatto con attenzione, passione e amore. Benvenuta Vendemmia è questo, un evento giunto alla sua quindicesima edizione che apre le porte delle aziende aderenti al Movimento Turismo del Vino ai visitatori durante le fasi della vendemmia in cui i colori, i sapori e i profumi delle terre di Puglia saranno racchiusi in una bottiglia. Le aziende che aderiscono al Movimento Turismo del Vino e che partecipano a Benvenuta Vendemmia tengono tanto appunto agli enoturisti da aprirsi in questo momento delicato per mostrare appunto quello che fanno, far sentire gli odori, anche i rumori perché appunto le fasi in cantina possono essere anche concitate, è un momento particolare. Curiosi e appassionati potranno entrare gratuitamente nelle aziende e godere di un ricco programma di visite guidate e passeggiate tra le vigne, degustazioni e momenti di spettacolo, un evento che promuove la Puglia, il suo vino e la sua cultura. Tutti gli eventi che si organizzano nella nostra regione si organizzano sempre con l'abbinamento della degustazione del vino perché il vino riesce in qualche maniera ad inserirsi in qualsiasi contesto, dall'arte alla cultura, lo sport, la comunicazione. Insomma con il vino si riesce a completare un evento che crea grande attenzione. È stata un'estate diversa da quella dello scorso anno dal punto di vista climatico, diverso quindi sarà anche il vino. Quest'anno sicuramente è un'uva più equilibrata, infatti l'annata soprattutto dei vini bianchi sarà sicuramente ottima. Per quanto riguarda i rossi anche saranno più equilibrati. Ripeto, non tutti i rossi abbiamo già iniziato la vendemmia, il primitivo qualcosa si è iniziato, qualcosina di negramaro anche se proprio all'inizio. Il nero di Troia ci vorrà ancora un po' di tempo per parlare delle uve principali. Comunque sicuramente un'annata più equilibrata rispetto a quella dell'anno scorso. Benvenuta a vendemmia sarà anche l'occasione per promuovere la Puglia in America attraverso l'assegnazione del premio Puglia Top Wine Destination all'enoturista statunitense Susan Simler che si è aggiudicata un soggiorno di una settimana alla scoperta della Puglia vitivinicola. Stanno promuovendo sempre di più sia nei media che nella carta stampata, sulla stampa specializzata la Puglia, negli Stati Uniti come hanno fatto in passato con la Toscana. Quindi c'è da aspettarsi nei prossimi anni un afflusso sempre maggiore di turismo americano nella nostra regione. L'appuntamento è per domenica 15 settembre nelle aziende pugliesi aderenti all'iniziativa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito mtvpuglia.it